Le aziende farmaceutiche continuano ad essere sotto l'occhio del ciclone. Le polemiche sono concentrate sul piano di distribuzione dei vaccini, che, secondo i paesi firmatari dei vari accordi, non rispettano le condizioni prestabilite. L'attenzione dell'Unione Europea è volta in queste ore ad AstraZeneca, casa farmaceutica al centro delle polemiche per i ritardi nelle consegne. In particolare, Bruxelles contesta le dichiarazioni del CEO dell'azienda, il quale ha rivelato che non sussiste alcun obbligo verso l'Unione Europea. Parole che creano malumori e che spingono a chiedere lo svincolo della clausola di segretezza, per poter pubblicare il contratto. In giornata è prevista una riunione del Comitato Direttivo sui vaccini, in cui si insisterà sulla consegna delle dosi. Intanto il neopresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accelera sulla distribuzione dei farmaci. Il leader americano annuncia una serie di nuove iniziative da tempo di guerra contro il Covid. La prima è l'intenzione di ordinare ulteriori 200 milioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna, portando così a 600 milioni il totale rispetto agli attuali 400 milioni. Tra le nazioni più virtuose a livello internazionale spunta Israele. Gli ultimi dati relativi al contagio rispecchiano un calo di ricoveri negli ospedali nazionali, con un decremento rilevante dei ricoveri in ospedale degli ultra-sessantenni. Novità anche nel nostro paese. Lo Stato italiano, annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza, entra con capitale pubblico in Reitera, l'azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino anti-Covid. Secondo il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Giorgio Palù, alcuni milioni di dosi del vaccino dell'azienda potranno essere somministrate da settembre. Grazie. 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 Grazie.